Tutto potrebbe essere deciso nel giro di tre giorni. Nel futuro dello stabilimento Ilva di Taranto, adesso c'è una data precisa, quella di mercoledì 5 giugno, giorno in cui è stata convocata una nuova assemblea dei soci del Siderurgico. Dopo il sequestro degli impianti disposto dalla procura di Taranto e i provvedimenti che sono andati a colpire il patrimonio dei Riva, un colpo da oltre 8 miliardi di euro, la storia dell'Ilva sembra sempre più simile a quella di una nave che sta affondando e che al momento non ha più un timone. Il Governo, nel tentativo di salvare azienda, produttività e occupazione, è da tempo al lavoro alla ricerca di soluzioni e con tutta probabilità quella appena iniziata potrebbe essere la settimana decisiva. Diverse le possibilità maturate sino a questo momento, nominare un commissario unico o un commissario ad acta solo per il risanamento ambientale, procedere all'amministrazione straordinaria dell'azienda, adottare un nuovo intervento legislativo o convincere gli attuali vertici del Siderurgico a restare in sella e ritirare le dimissioni, almeno sino a quando la nave non sarà traghettata in acque più calme. Ma muoversi non è solo l'esecutivo nazionale. Il Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, ha convocato per domani un tavolo tecnico che riunirà senatori e deputati pugliesi, assessori e consiglieri regionali e lo stesso Sindaco di Taranto e Pazio Stefano. Obiettivo dell'incontro? Fare il punto della situazione sull'intera vicenda Ilva, ma a meno di 24 ore dall'appuntamento si sono già registrate le prime defezioni. Il PD, dalla voce del deputato Dario Ginefra, ha annunciato che la delegazione parlamentare pugliese sarà ricevuta a Roma dal Ministro dell'Ambiente Orlando, mentre i vertici del PDL pugliese disserteranno con tutta probabilità la riunione perché considerata questo punto inutile. Domani il Premier Ricoletta riferirà in aula alla Camera sulla questione del Siderurgico, mentre non esclusa, proprio alla vigilia del CDA dell'azienda, la convocazione di un Consiglio dei Ministri straordinario per il via libera a un nuovo decreto. Si cerca in tutta fretta un appendice a quella legge 2-3-1 che nel dicembre scorso permise al Colosso dell'Acciaio di continuare a produrre nonostante il sequestro degli impianti. Una nuova salva a Ilva, insomma, nella speranza che questa volta l'Ilva si salvi davvero.